Ciao a tutti, con questo video vorrei parlare delle solite tre domande che gli uomini fanno sempre quando sono interessati a una donna, quando la vogliono conoscere, quando vogliono trarla o sedurla, ma che non funzionano, che invece dovrebbero bandire completamente. La prima domanda è che lavoro fai? Di cosa ti occupi? La seconda solitamente è quanti anni hai? A venire di seguito con la terza chiedendole dove abita. Ecco, queste tre domande sono da bandire. Un uomo non le dovrebbe proprio fare, mai, o perlomeno sono poi cose che avvengono spontaneamente, dove spontaneamente poi una donna ti dice, ti racconta di lei. Sono domande che non seducono. La seduzione si nutre di emozioni, non di logica. E non c'è niente di seduttivo nel chiedere a una donna di che cosa si occupa, qual è il suo lavoro, quanti anni ha. Magari cambiate la domanda, provate a farle un altro tipo di domanda. Un esempio può essere, parlami del tuo ultimo viaggio, quali sono state le emozioni, le sensazioni che hai vissuto, cosa ti è piaciuto di più di quel viaggio. Potrebbe essere una valida ed efficace alternativa. Una domanda alternativa efficace, capace sicuramente di suscitare interesse, emozioni in qualche modo. Quindi uomini, metteteci del vostro, siate originali, date emozioni, non siate banali e scontati. Intanto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per ricevere le notifiche dei nuovi video e delle live con la pink. Bacio dalla pink.